Il centro storico si è trasformato in un laboratorio di scienza a cielo aperto grazie a Sharper, organizzato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso con tanti partner e Street Science, organizzato dall'Università dell'Aquila. I luoghi del centro sono diventati veri e propri laboratori a cielo aperto con corsi fotografici, arti, astronomia, giochi e divertimento, esperimenti, tanti appuntamenti per i più piccoli e un grande spazio in Piazza Duomo dedicato alle forze dell'ordine. La piazza è una vera e propria scena del crimine che grazie alla collaborazione di reparti specializzati dei carabinieri e della Polizia fanno vedere quanta ricerca e quanta tecnologia si nasconde nelle loro attività forensi. La Polizia Scientifica ha parlato del DNA, una catena tra passato, presente e futuro ma ci sono stati anche il Laboratorio Mobile Forensic Fullback della Polizia Scientifica, Ufficio Mobile della Polizia Stradale, i carabinieri del RIS, anche quelli del nucleo di tutela del patrimonio artistico e dei beni culturali. Pop-up anche dell'università con esperimenti e tanto altro, scienza facile, al GSSI tantissimi appuntamenti dedicati ai robot, al 3D, insomma eventi numerosissimi per rendere la scienza davvero a portata di tutti e non poteva mancare il rugby con la riproduzione di una macchina per la mischia. Poi bisogna cercare di avere degli esempi pratici, nel senso spesso quando si parla di deformazione dello spazio-tempo si dice pensiamo che ci sia un tappeto elastico, mettiamo qualcosa sul tappeto e questo si deforma, quindi con questi esempi si dà un qualche esempio pratico. Devo dire che sono stati molto bravi, molto interessati, ho visto che erano abbastanza attenti, poi per carità ogni tanto un po' di distrazione c'era, però si riusciva sempre a riprenderli molto bene, quindi sono stato molto soddisfatto. Poi alla fine hanno fatto anche delle belle domande, alcune molto toste, molto difficili che non mi sarei aspettato dai ragazzi della loro età.